Un'assise destinata a far molto discutere, quella tenutasi lunedì pomeriggio a Palazzo Migliaresi. Un Consiglio Comunale al dir poco movimentato, che ha visto i tre consiglieri di Pozzuoli bene comune abbandonare l'aula non appena sono iniziati i lavori. A determinarne l'uscita la decisione del Presidente del Consiglio di spostare arbitrariamente al primo punto all'ordine del giorno la discussione sull'approvazione dell'aggiornamento cartografico del Piano Regolatore Generale. E mentre i consiglieri di Pozzuoli bene comune hanno contestato la forma a scatenare le reazioni del Consigliere dei Verdi Ecologisti Paolo Tozzi eletto nella coalizione di maggioranza ma di fatto non appartenente ad essa è stata la sostanza dell'atto, che di fatti è stato poi approvato dai consiglieri di maggioranza presenti in aula. In particolare il voto espresso dai consiglieri comunali aggiorna il Piano Regolatore Generale in merito all'intervento del collegamento tra l'uscita della tangenziale di Via Campana e il Porto che doterà Pozzuoli nei prossimi anni di un'arteria stradale in gran parte sotterranea che fungerà anche da via di fuga in caso di esodo di massa. L'assessore al Governo del territorio Roberto Gerundo ha spiegato tecnicamente l'opera che rientra in una serie di interventi commissariali programmati da tempo tra cui la riqualificazione di due stazioni della Cumana, l'adeguamento viario presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie e gli scambi di interconnessione stradale. Ma secondo il consigliere Tozzi la proposta di delibera che il sindaco Vincenzo Figliolia definisce una mera presa d'atto di un provvedimento oggetto di numerose conferenze di servizio è di fatto una modifica sostanziale al Piano Regolatore Generale senza seguire i regolari passaggi amministrativi. Tozzi incalza contro il primo cittadino ricordando che oltre all'uscita dall'aula dei tre consiglieri di Pozzoli Benecomune i quattro consiglieri dell'Udc hanno votato a favore dichiarando espressamente che lo facevano solo per spirito di appartenenza alla coalizione senza essere convinti dell'atto. Di tutt'altro avviso Figliolia che parla di voto compatto della maggioranza e difende la bontà della delibera. Al di là dell'aspetto tecnico progettuale sul quale non entro nel merito afferma il primo cittadino abbiamo voluto portare questa discussione nel cuore della politica cittadina che è il Consiglio Comunale. Per troppi anni la nostra città è stato oggetto della politica dei veti incrociati e proprio su questo atto sono addirittura stati mandati a casa due sindaci. Per questo la città di Pozzoli non ha fatto alcun passo in avanti.